buongiorno a tutti sono mattia oggi vi propongo per festeggiarmi della primavera un circuito di pilates con l'ausilio di uno sgabello non ci sederemo anzi possiamo di partenza ma sullo schienale inaspiro cresco e spiro mi allungo inaspiro e vado a strecciare bene gli ischi piano piano i primi leggeri, forma a mano, andiamo ad aumentare mobilità delle spalle stiamo nella posizione, c'è al semplice, ispiro per salire e ispiro per scelta sempre 10 mentre c'è al semplice accosciata completa sulle punte e ritorno sui talloni schiena è sempre controllata ok leggermente apposta fattino avanti gamba, destra dietro, fletto del genuto della sinistra, 10, in, in, e 10, rimani in estensione con la gamba, destra, kick, in, 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 mantenere bene l'addome, una spinta, rimani sempre, esci, sempre 10, in, esci, estorni, 9, e 10, ritorni col piede, andiamo l'occhio, mani sempre sullo schienale, in, 10, stringere bene i glutei, attivare bene gli adduttori, scapole vicine, aprile bene lo sterno, 9, e 10, uscita dai piedi destro, inspiro, e ritorno, inspiro, e ritorno, allora bene con gli adduttori, lavorare con l'addome, respiro, concentrati, e 10, e ritorni su, cambio parte, in, 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 per arrivare a 10, kick, in, 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 in bene schiena dritta addome adduttori bene non c'è tanto il respiro bene sulla lega d'appoggio già nella testa e 10 andiamo giù e in respirare, concentrarsi, spalle belle aperte ora arrivare a 10, stringere le mie glutee, mando salvo, rimani su e scivolta il piede sinistra, spiro e ritorno con la duttore destra, scarico il peso sul piede sinistra, ritorno sul ginocchio testo e respiro ritorniamo per riprendere questo circuito da ripetere altre 5 volte grazie per la visione!